Le pattuglie del commissariato di pubblica sicurezza di Fano coordinate dal dirigente Stefano Seretti continuano nella loro azione di contrasto alle sacche di delinquenza nelle zone residenziali della città. Nei giorni scorsi hanno concentrato i controlli nelle zone di Rosciano, Bellocchi, Cucurano e Carrara. Gli agenti che hanno svolto i pattugliamenti sia in uniforme con auto d'ordinanza che in abiti civili a bordo di mezzi Civetta hanno verificato 180 persone e 72 veicoli mediante poste di blocco lungo la via Flaminia e svolgendo diverse perlustrazioni, in particolare presso le aree verdi e o dismesse di queste zone. Nelle maglie strette dei poliziotti sono caduti due cittadini italiani rintracciati nel corso dei controlli e arrestati in quanto risultavano uno destinatario di un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva emesso dalla procura della Repubblica di Pesaro ad anni 1 e 4 mesi di reclusione a seguito di una condanna per i reati di lesione, minaccia e discriminazione razziale avvenuti a Fano nel 2015, mentre il secondo colpito da un decreto di sospensione cautelare di misura alternativa emesso invece dall'ufficio di sorveglianza di Ancona. Uno straniero di origine asiatica titolare di regolare permesso di soggiorno è stato invece trovato in possesso di qualche grammo di stupefacente del tipo hashish e segnalato alla prefettura quale consumatore abituato. Due italiani sono invece stati rintracciati dagli agenti del commissariato a seguito delle segnalazioni di alcune ragazze appena maggiorenni che erano state avvicinate in due distinti episodi da due uomini che si erano denudati davanti a loro. Il primo episodio si è verificato nella zona di Carrara di Fano lungo una via secondaria e poco trafficata dove una ragazza appena diciottenne che camminava lungo il ciglio della strada è incappata in un uomo sull'altro lato della careggiata che sceso dal veicolo ha mostrato alla giovane le proprie nudità per poi prendere l'auto raggiungerla e seduto sul posto di guida gli ha mostrato le parti intime. La ragazza nella circostanza si è subito allontanata e ha chiamato il commissariato dove gli agenti seguendo la descrizione della giovane hanno individuato l'uomo un italiano già conosciuto alle forze di polizia per fatti della stessa natura. L'altro episodio è accaduto alla spiaggia dell'Arzilla dove un uomo si è denudato completamente davanti a tre ragazze anche loro appena maggiorenni che passeggiavano sulla renire. Anche in questo caso la pronta segnalazione delle ragazze al commissariato ha consentito agli uomini della volante di intervenire e rintracciare immediatamente il responsabile. Ad entrambi i soggetti è stato contestato il reato di atti osceni in luogo pubblico che prevede una sanzione di euro 10.000.